Oggi vi propongo una ricetta buonissima, ma soprattutto facilissima. Biscotti senza zucchero, con farina integrale e gocce di cioccolato. Utilizzeremo le banane, i biscotti e le banane più buone che avrete mai mangiato. Provate questa ricetta e fatemi sapere cosa ne pensate. Due banane mature, queste pesano circa 310 grammi, 40 ml di olio, ho utilizzato l'olio di semi di girasole, quindi frullate il tutto con frullatore ad immersione. Se volete potete utilizzare anche l'olio di semi di soia oppure l'olio di semi di mais. Una volta che avete frullato bene il tutto, vado a versare la farina integrale. 200 grammi di farina integrale. Amalgamate benissimo il vostro composto, poi metto proprio mezzo cucchiaino o un cucchiaino raso di lievito per dolci. E ragazzi, il gioco è fatto verso 100 grammi di gocce di cioccolato fondente. Ho tagliato il mio cioccolato fondente a scaglie. Ricopro con la pellicola e faccio riposare in frigo per almeno 30 minuti. Se volete, anziché utilizzare il cioccolato fondente, potete utilizzare il cioccolato al latte oppure il cioccolato bianco. Molto dipende dai vostri gusti, anche se io vi consiglio sinceramente il cioccolato fondente. Allora ragazzi, dopo 30 minuti, ungete benissimo le mani con l'olio. Vi potete mettere vicino una ciotolina con l'olio e quindi vi aiutate. Ungete le mani, date forma ai vostri biscotti e infornate con un forno preriscaldato, forno ventilato a 180 gradi per circa 20 minuti. La cottura può cambiare da forno a forno. Quindi fate attenzione, quando sono ben dorati, sono pronti. Ragazzi, allora vi aspetto sul mio canale YouTube Cartesia. Iscrivetevi e attivate la campanella. Perché se attivate la campanella, ogni volta che pubblico un video, vi arriva subito la notifica e non perderete più neanche una videoricetta super golosa. E visitate il mio canale perché troverete moltissime playlist di dolci, primi piatti, secondi piatti, idee per colazione, ricette light e ricette invece super super dolce e golose. Quindi vi aspetto sul mio canale YouTube Cartesia. Vi mando un bacione grande grande e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!